Ladislav! 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 io ne ce li unghie, per i no capupà, per i no ca io ne ce li non fanno il nome di l'Adiislau l'Adiislau E' fiura! E' di da roba! Chi è? Ma questo c'è roto! Mi te voli a fare il buon menepoli ma ne ragionai c'è da una sprazzone c'è da una mora Ma la capace, ma c'è qua dire che è passato a cattione un'animale un'eventura Dov'è? 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 Nasi iti l'Adiislau? Nasi iti? Dov'è? Dov'è l'Adiislau? Adiislau, a s'amoržilite ti meni, zv'at'i ježičko Zv'at'i ježičko Zv'at'i ježičko Zv'at'i ježičko Zv'at'i ježičko Zv'at'i ježičko, a ne žilite, abit'i nob'a uva' A jedna te, babo, ti ti je kad'ja, si l'up'š'e tuja Zv'at'i ježičko A ti si ubojica, ne d'ubiš? Ti si ubojica, varisti da' bu' mokra Ma... L'Adiislau? Ma sa njim jat'o ježičko Ja ubojica, ja ne žai da ti meni, ma ti ježičko L'Adiislau? Ja ubojica, ježičko Ja zesluži, ta poujica-noga odpadnie, to vrat'i Ja zesluži, ta jauže, ja už išičko Ježičko, omali Ja zubiš, no bomi naje kodi kainuli Odcora, zubi, rodina, žena me prevalilo Pračú Hrë Ibojica A ja budávka, éžičko Mali za ubiči Sadrma ja pametam Ma quest'è qui va? Ma nominca e tatica... Trazione a me è di che c'è... E la nominca e tatica... ...di un povero... ... ... ... C'è un povero che di pecoraggio, quando sono arrivati? ... ... Sono orizzato per dire che da scambio le potezioni onde sono le potezioni, oltre li roma e da bene Non c'è pazzo di roma?? Il cazzo è pazzo di roma! Non c'è pazzo! Non c'è pazzo! Non c'è pazzo! Non c'è pazzo! cos'è mera? ho raggiunto ho raggiunto ho raggiunto ho raggiunto l'argetto ho raggiunto ho raggiunto ho raggiunto ho raggiunto ho raggiunto con sei con sei o raggiunto che è momento cos'è la mia no parte che è scherz il